Allora, partirei subito con una sparata, che vi piaccia o meno. L'Italia è un paese di bigotti, di moralisti e di coglioni. Ora inizierà, a breve, il Festival di Venezia, la nuova Kermesse della Mossa Internazionale di Arti Cinematografica. Che voi non ho capito, ci sono gli speaker, no? Quando annunciano l'inizio della proiezione al Palabiennale, anche in Sala Grande, però, in Sala Grande si può accedere soltanto, previo invito o pagando una cifra, l'ira di Dio. Signore, signore, prima le signore, signore, signori, ladies and gentlemen, fra cinque minuti inizierà la proiezione, si prega di spegnere gli iPhone, gli Android e le persone che non sanno cosa sia, l'amplifon e la Diofonica. Cos'è la Diofonica? Descorro un film di Frank Oz con Robert De Niro, no? Marlon Brando ed Edward Norton, no? E Edward Norton, quella è la Diofonica, ok? Io sono Falotico e allora arriviamo alla questione. La questione è che quest'uomo qui, che soghigna Paolo Merighetti, oltre a odiare il cinema di Sergio Leone, perché anche per qualche dollaro in più su questo film ebbe molte riserve. Poi ha segnato a quasi tutti i film di Leone due stellette e mezzo, che non è un voto, diciamo così, non è una valutazione così disdicevole, però è riprovevole perché è una valutazione quasi a mo' di contentino, visto che criticarono il critico perché si permise di stroncare impietosamente tutti i film di Leone assegnandogli, o assegnando ai film loro, poche stellette e allora due e mezzo. Facciamo felici tutti. No, si è spenta la sigaretta. Allora, il cinefilo è un idiota, un idiota. Ho conosciuto tanti personaggi veramente estrambi, pittoreschi e folli al Festival di Venezia, persone che hanno durante l'anno una vita di merda, una vita di merda e non se la godono mai, che sputtano tutto il patrimonio, tutti i risparmi per fotografare gli attori e per avere da loro l'autografo. Poi si riempiono la bocca di paroloni e cinema. Mi ricordo anni fa, il ritorno di Wim Wenders, il Takeshi Kitano Fan Club. Sì, e poi cerchi di interagire con queste persone, cerchi un'empatia, per l'appunto cinefila, e ti guardano male se il tuo parere è discordante, ma va cagare, ma va che... e ridono, ridono di enorme strafottenza quando loro sono soltanto degli spettatori impassibili e passivi della loro vita, semplicemente trassognata, trasfigurata, proiettata, non solo ricevuta di proiezione emessa dal proiettore, sì, la rosa popura del Cairo, Doce, di Woody Allen, cioè riversano i loro sogni, le loro aspirazioni, le loro frustrazioni, in un'esistenza vissuta di riflesso, immaginifica chi vive della vita altrui e riempie quei vuoti emotivi e salda, diciamo così, quegli scompensi emozionali derivati da una quotidianità loro piuttosto disgraziata, da sciagurati che sperano, sperano continuamente che non dall'alto, dal grande schermo, possano essere non illuminati della luce, delle rifrangenze, ecco, possano ridestarsi dal torpore, dalla letargia del loro sognare una vita lisergica, ma rimane una vita che delira, che vaneggia, che vagheggia l'impossibile e non ci mentano mai, non soltanto col cinema, perché criticano e basta, ma non criticano se stessi, anzi, si autocelebrano, scolpiscono a immagine e somiglianza, per l'appunto del loro stesso solipsismo, le loro vite a monumento geografico di se stessi, per un mockumentary della loro immobilità, poi. E allora, è un uomo che è un critico, che sarà invitato, io avrò probabilmente difficoltà ad accedere, ad accreditare a stampa, perché i posti disponibili a causa dell'emergenza sanitaria ingenerata dal Covid-19 saranno meno, daranno più ampio spazio alle maggiori testate giornalistiche, fra cui ovviamente il Corriere della Sera, fra cui forse Bad Taste, dove lavora, lavora Francesco Alò, o cazzeggia qualche volta, in cerca di visualizzazioni, lanciando provocazioni, del tutto opinabili, così come i film sono opinabili, e le opinioni di Mereghetti vengono prese per oro colato da molti cinefili alle prime armi. Anch'io abboccai, anch'io mi lasciai imboccare da Paolo, che oltre a odiare Sergio Leone, odia anche Leon e Luke Besson. Ma come? Sì. Mereghetti del 2017, l'ultima edizione, credo sia l'ultima, l'appoggio qui. Spero di non sporcare questo tomo, ove fra 5.000 film da lui massacrati, distrutti, linciati, tranne forse quelli di Lynch, alcuni rivalutati, su 5.000 film di questo primo volume, poi c'è il secondo, lui salva forse 100 film, proprio arrotondiamo per eccesso, eccessivo, eccessivo questo Paolo. Allora, Leone, allora, Luke Besson non è un grandissimo regista, fu molto sopravvalutato, un cineasta di indubbio talento, con un suo sguardo preciso, molto personale, con una poetica definita sin da principio, come si suol dire, fin dai primissimi esodi, però forse non ha mai, veramente, questo dò ragione a Paolo, realizzato, girato, filmato, un capolavoro, diciamo, da incorniciare, da tramandare ai posteri, come l'infernale Quillan di Orson Welles, tutti dei Divortes Mont, lui francese, no, ampiamente apprezzati dai suoi aficionati, i Bessoniani, poi ci sono i Bressoniani, Robert Bresson, un Bressoniano, è un regista, ampiamente capace, a mio avviso, regista di The Witch, di The Lighthouse, sarà finalmente distribuito in un video a fine ottobre, si ispira a Bresson, questo Robert Eggers, e anche a Berman, qui voglio essere un po' Woody Allen di Manhattan, questo bianco e nero suadente, allora spesso vengo assalito da forti crisi depressive e mi sdraio qui sul divano, elencando le cose per cui vale, valga ancora la pena di vivere, quindi rimandiamo il suicidio post festival, Leon, non riuscite a leggere, gli assegna due stellette, allora a New York il killer solitario Leon, fra l'altro qui non ce l'accento, l'accento così, così, o ricordate, siate amanti di leone, siate leonini, e siate sempre leone, poi del mezzogiorno, di fuoco, di memori, delle atmosfere calde, sì sì, siate sempre così, ok? Ok, a New York il killer solitario Leon, Renault, è un killer, sì sì, perché questo Renault, nella ragazza, nella nebbia, spoiler, fallo psichiatra, ma, salva la vita, la dodicenne, Matilda, comunque vi consiglio, Matilda May, un'attrice, che in molti film è stata, proprio di scene di nudo, molto integrale, ingroppata, mai veramente, valutata, per quel che è, cioè una figa, se scopedale, Matilda May, Natalie Portman, che a me non è che sia piaciuta molto, la cui famiglia, mai molto, la cui famiglia è stata, sterminata dal poliziotto, corrotto Stansfield, Stansfield, Field, senza re, Olman, la piccola, vorrebbe imparare il mestiere, del suo riluttante salvatore, e se ne innamora platonicamente, molto precoce, sì sì, ecco, ha fatto bene questa Portman, a rivolgersi a Leon, perché, il padre invece, suo padre, Al Pacino, Vincent Anna, The Heat, la trascurava, la madre, proprio non la cagava, e proprio, non guardò forse neanche Manhattan, e voleva suicidarsi, e allora, vorrebbe imparare il mestiere, del suo riluttante salvatore, se ne innamora platonicamente, Leon, a modo suo, ricambia, e si sacrifica, un pedofilo, questo chielo, no, al suo esordio americano, Besson continua a coniugare, romanticismo esasperato, e violenza da fumetti, alla faccia di ogni vero simiglianza, è difficile appassionarsi a personaggi, tanto stilizzati, per di più clonati su Nikita, che comunque, non è che sia particolarmente esaltato, da Paolo, Matilda è una Nikita impubere, impubere, e Leon, una versione catatonica, del killer Victor, interpretato allo stesso Reno, ne c'è molta sostanza, sotto le carrellate mozzafiato, le coreografie pirotecniche, comunque inferiori, a quelle di qualsiasi film, di Hong Kong, e alle sparatorie di Takeshi, no, di Violent Cop, meno seriose e autocompiaciuto, tuttavia, di altri film dello stesso regista, Sì, non ci sono queste sparatorie, alla Exile Excited, o alla Ventureans Vendicami, di Johnny To, che fa sempre molto presa, presso questi pseudo-cinni, che preferiscono, però, un grande Michael Mann, ma Johnny To, da quel tocco di esotico, anche forse di erotico, l'esterofilia, siamo spostati da Hollywood, a Hong Kong, poi a Bangkok, e forse a Giussi Ferreri, la Rina Finna, Bangkok, meno seriose, autocompiaciute, tuttavia, d'altività del regista, punzecchiature, anticinefile, trasmessa attraverso il protagonista, dal cinema, guarda estasiato Gene Kelly, sui pattini, non di singh, è sempre bel tempo, Sì, ultimamente è sempre bel tempo, che è Bologna, ma non sa riconoscere, le imitazioni di Madonna, Marilyn e Charlotte, che gli fa Matilda, eppure, tutto il film ruba, man salva, mani basse, da altri film, Gloria, il ragazzo, la cui famiglia è stata sterminata, raccolto dal vicino, l'erba del vicino è sempre più verde, e anche l'erba di Grace, Arancia Meccanica, il capo della banda, che uccide sentendo Beethoven, è ovvio, è ovvio, Gary Holman, non è lui, Beethoven, Mozart, quando era ancora sposato a Isabella, Rossellini, no? L'amato immortale, e non tanto, non tanto, questa Rossellini qua, però, donna proprio da veluto blu, perché è stata con Scorsese, con Holman, con Lynch, e forse è stata anche un palo, ma reghezza, secondo me sì sì, il silenzio degli innocenti, il furto della divisa, di un poliziotto per fuggire inosservato, taxi driver, l'ossessione ginnica del giustiziere, il bandito delle undici, il suicidio esplosivo del protagonista, vedete, Frank Costello, faccia d'angelo, l'amore per la pianta, individui, uscita, non ci interessa, vediamo, è qua Nikita, non è qua Nikita, non è qua Nikita, però qua forse c'è Malavita, Malavita, Cose Nostre, un film di personaggi alla Tim Burton, dei Freak, questa famiglia Adams, un bel gioco di rimandi, di citazioni, che non è stato molto capito da Paolo, Paolo che odia, risaputo, Lars von Trier, Cose Nostre, Malavita, si vede, non si vede niente, due stellette, allora, collaboratore di giustizia sotto tutela dell'FBI, il boss mafioso, che qua però, Giovanni Manzoni, un boss che si chiama Giovanni Manzoni, questo Manzoni era sposato con Eriket Blondel, no, quello era Alessandro, come si sposa, comunque è sposato, conosciuto con il nome di Fred Blake, De Niro, è costretto a trasferirsi con la sua famiglia in una cittadina in Normandia, malgrado l'agente Stansfield, ancora questo Stansfield, ma è la citazione dalle odds, si chiama così, uguale, Jones, cerchi in tutti i modi di tenerli in riga, sì, lui, partiene alla polizia, modello anni 50, riga, sono appuntato, appuntato carabiniere dell'arma, cerchi in tutti i modi di tenerli in riga e Fred Scopi, Scopo, nel piacere di scrivere, vedete, Manzoni, è ereditato, questa passione per la scrittura, la propria biografia, sua moglie, Maggie, si è innamorato intanto di Renzo, di Renzo, ha una figlia di nome Lucia, e qui c'è il nominato, no, non riesca ad abbandonare le vecchie abitudini, e continua a gestire i problemi, soprattutto quelli che sorgono con i nuovi vicini di casa, in maniera piuttosto brutale, ma un giorno il boss Don Lucchese, fra l'altro Don Lucchese, non legge la gazzetta del mezzogiorno, di solito un personaggio così non legge nulla, no, lo legge addirittura, non il Corriere della Sera, ripeto, no, no, legge La Repubblica, capisci? E' come se Totorina avesse letto tutto Dostoievski, soprattutto Delitto e Castigo, è credibile questa sceneggiatura, Don Lucchese si sta in carcere, in Branda, lui legge La Repubblica, capito? Lui che ha disconosciuto proprio tutti i valori repubblicani, in prigione per le confessioni di Freda, riesce a scoprire dove si nasconde e manda i suoi scagnozzi per regolare i conti, questi sono i bravi, bravi? Bravi ragazzi, sì, perché c'è, ispirandosi all'emodio di un romanzo di Tonino ben acquista, ben acquista, no, no, non acquistate questo romanzo, perché questo ben acquista, ecco, non è Manzoni, poi si fu tratta questa sceneggiatura, vedete, la sceneggiatura che Besson ha scritto insieme a Michael Kall e Kaleo, ecco però, i personaggi sono ricalcati su quelli identici del libro, questo ben acquista doveva agguzzare un po' la vista, doveva fare delle ricerche, Don Lucchese che legge La Repubblica, forse questo può essere una licenza poetica, ecco, di Besson, ma Giovanni Manzoni, mafiosi, che io conosca, non conosco nessun mafioso, però di solito hanno nomi come Peppino e Cirille, Giuseppe Impestato, Giovanni Manzoni, mi sembra, insomma, che possa avere origini milanesi, torinesi come i merighetti, ecco, c'è il libro che mi ha scritto insieme a Michael Kall, gioca con le idiosincrasie tra americane e francesi, cui costrette rapporti di vicinato, carichi di comica tensione, e con i quotidiani goffi tentativi di integrazione, in una provincia governata da nuove regole sociali. Il film riaffida alla Fife il ruolo di donna sposata alla mafia, Scarface Docet, in pasta all'umorismo, meno dei bravi ragazzi di Scorsese, non a caso produttore esecutivo, con alcune buone idee di Imbrugge, La Coscienza e l'Assassino di Martin McDonnell, e racconti di mafia dell'era post-soprano, in cui malavetosi, privati di fascino e rispetto, sono ridotti a stanchi e compulsivi impiegati del crimine. Ma potreste andavano a fare gli impiegati comunali, e non avevano tutti questi problemi. Ma alla fine, nel suo bulimico accumulo di idee, il film non riesce mai ad avere una chiave originale e davvero convincente. Due stellette. Vediamo se troviamo anche Nikita. Nikita, dobbiamo cambiare. E anche l'osato, Merighetti, proprio in queste idee inscalfibili, proprio. Duro, duro. Nikita, Nikita. 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 Malavita. Questo film c'è Anne Parillaud, Parillaud. È lì. Oh, io la prima volta, sì, va bene. Era una disadattata questa qui. Forse anche io ero disadattato la prima volta che vedi questo film. Però mi divenne duro. Io vedi questa Anne, mi divenne di 30 centimetri. Scusi, altro che calibro, che utilizzo De Niro, ecco. A me divenne duro. Lo sa benissimo Willem Baldwin nel film di Raul Ruiz che ha girato con Anne. Anne dei miracoli, quella, risusciti morti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ecco, il mafioso. Così. Avanti, portami un altro po' di caffè che mi dovrò fare la bocca. Ecco. Poi si gratta le palle e la domenica va a messa. e poi la sera trompa la moglie e tutte le amanti di notte. Ecco. Ma lui è uomo di un orso, capisci, no? Minchia, oh. Allora, Nikita, addirittura Nikita una stelletta e mezza. Allora, si legge? Per fortuna che Leon era ricalcato da loro, proprio, arrestata durante una sanguinosa rapina, la tossicomane Nikita viene trasformata in killer per conto dei servizi segreti francesi. Un soggetto apparentemente trasgressivo per un film finto e pretenzioso dopo un avvio da grandecima d'azione. Besson punta, senza ironia alcuna, sul look più convenzionale, infilando una dietro l'altra in quadratura stereotipata e traslucida, degna della peggiore tradizione pubblicitaria tra le donne con la pistola e appunto Anne con William Baldwin. quel William Baldwin in quel periodo, Sharon Stone di Sliver, Jennifer Jason Leigh di Fuoco, Assassino, la situazione si scaldano e poi soprattutto Cindy Crawford, ecco, che furoreggiava la pari e ecco l'ammiccamento del maialino merighettino è una delle più belle e delle più spietate ma certamente una delle meno originali mentre la particina di Jamoro abbiamo paio Jamoro e sto paio è poca cosa perché possa dare un tono diverso a un film intento soprattutto ad ammirarsi rifatto a Hollywood come nome in codice Nina ecco un nome mafioso Nino che dice zio Nino? e righetti non piace vediamo se c'è anche forse c'è anche questo non lo so non piace molto questo Leon questo Besson però gli piace Bresson gli piace perché Bresson non si può criticare Bresson altrimenti poi non ti prendono per un critico serio non ti invitano devi dire che Bresson è un grande e The Lighthouse è un capolavoro guai a opinare anche secondo me è un grande film però guai non ti è piaciuto The Lighthouse di Robert Eggers non ti è piaciuto The Witch ma tu che film guardi film con Lino Banfi un tempo fa uno scrissi che Lino Banfi è un tamarro allora chiariamoci Fabrizio Corona è un tamarro Lino Banfi è un terungiello come Diego Abbatanduono e chi era? dovete stare attenti alle parole ecco grazie a tutti